Buongiorno, potrebbe descrivermi un progetto innovativo al quale ha preso parte di recente e quale ne è stato l'esito? Certamente, ho contribuito a un progetto per l'introduzione di una nuova soluzione di storage energetico, ottenendo un riscontro positivo e aumentando le vendite. Potrebbe descrivermi un'occasione nella quale ha dovuto pensare fuori dagli schemi per risolvere un problema piuttosto urgente? Durante un'interruzione energetica al lavoro, ho coordinato un'operazione di vendita itinerante che ha salvato la situazione e rafforzato la fiducia dei clienti. Posso chiederle come adatta il suo approccio per soddisfare le diverse esigenze e aspettative dei clienti? Utilizzo un approccio strategico, mirando all'eccellenza e adattabilità per incontrare le esigenze specifiche di ogni cliente. Posso chiederle che metodi utilizza per raccogliere i feedback dei clienti e applicarli per poter migliorare i servizi di fornitura? Impiego sondaggi di soddisfazione, interviste personale e analisi dei dati per migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi. Posso chiederle come si adatta ai cambiamenti improvvisi? Mi adatto velocemente ai cambiamenti, considerandoli come opportunità per dimostrare flessibilità e migliorare le mie competenze professionali. Può descrivermi un'occasione nella quale è riuscita ad adattarsi al meglio a una nuova tecnologia o un nuovo metodo di lavoro? Ho integrato con entusiasmo un sistema di automazione delle vendite, migliorando la gestione dei clienti e rafforzando le performance aziendali. Grazie